good morning anche se direi più buona sera perché qui mancano pochi minuti alle quattro mister master maestro o semplicemente o semplicemente david inch it's january 2 2021 and it's sunday here in naples 51 fine at around 11 celsius and this means that ecco la giornata veramente 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 fredda in questi giorni in questo periodo però comunque io non avverto il freddo più di tanto ricordo sempre di vedere il video sul freddo che ho fatto mio pensiero sul freddo qualche giorno fa per capire perché lo soffro più di tanto quindi come ho detto ieri separerò il report dal video sul report dal video sul pensiero c'è il video con il report dal video contenente pensieri anyway as you just see from the window absolutely we don't have non abbiamo neanche oggi come ieri those beautiful blue skies and golden sunshine direi che si è aperto benissimo l'anno due giorni consecutivi totalmente nuvolosi e che vanno verso che va verso la pioggia anche questo dico la frase kart ovviamente le cose possono sempre cambiare un momento all'altro but as always you will see ma francamente la vedo un po dura say that it is so from the mythical window with the colored curtain purtroppo molto oscura nemmeno l'inquadratura ci salva oggi and it's green roller shooter ovviamente inutile dirlo con enfasi in questi casi però è vero non in questi casi dicembre e inizi gennaio non abbiamo cioè fine dicembre in dicembre no dicembre tutto dicembre quasi inizi gennaio non abbiamo dosi beautiful blue skies and golden sunshine però abbiamo andiamo 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 e and pani e come those beautiful blue skies and golden sunshine ma che comunque ci possono sostituirli degnamente un saluto anche da the total mythical window with the white curtain and the green roller shooter and finally from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 Eva and great day him all the people of all of the channel and riporsi un saluto veramente a tutti mi raccomando a B altro video per quanto riguarda i pensieri separato da questo su again Eva great day him all these people and everyone too